Siamo a metà cammino nella Coppa Italia regionale. Ieri archiviati gli ottavi e definiti gli accoppiamenti dei quarti. Il gol di Sabatino è bastato al Boiano per eliminare il Ripa Limosani. Il team di promozione si è rappresentato al Colalillo con il gap di 2 a 0 maturato all'andata. I matesini nella gara di andata dei quarti ospiteranno il Guionesi che ieri ha interrotto l'avventura tricolore dell'Arora Capriatese. Se all'andata la formazione campana aveva vinto 3 a 2 ieri Basso Molisani hanno vinto 4 a 3. Questa sicuramente è la sfida più avvincente del secondo turno. Prosegue l'avventura in Coppa del Rocca Sicura e del Treppini Matese. Le due corazzate di eccellenza si sono sfidate in campionato proprio domenica scorsa e si ritroveranno nei quarti. Il team di Bonomi dopo aver vinto 3 a 1 a Pietra Monte Corvino ha fatto il bis nel match di ritorno con un sonoro 6 a 1. Treppini Matese invece all'Ancellotta ha ribadito il 2 a 0 con il quale aveva già vinto all'andata contro Lisernia. Sette le reti rifilate dal comprensorio verano a Gambatesa. Tre all'andata e quattro nel match di ritorno. La squadra di Caserta nel prossimo turno se la vedrà con il Venafro. I bianconeri ieri hanno perso 4 a 3 ma nella gara di andata hanno vinto 5 a 3 e proprio la differenza a reti ha permesso ai Molisani di eliminare il Volturnia. Decisivi 90 minuti dell'antistadio Selvapiana dove sono scesi in campo Leacli Campo di Pietra e il sesto Campano. 1 a 1 il risultato dell'andata. I ragazzi di Cordone ieri hanno vinto 3 a 1 e hanno staccato il pass per il terzo turno dove ad attendere il rosso-blu c'è il Termoli. La rete di Florio ha permesso alla squadra di eccellenza di avere la meglio sulla Rora Capriatese. Gare di andata il 6 novembre. Ricordiamo gli accoppiamenti. Guionesi, Boiano e il Treppini Matese ospiterà il Rocca sicura. Il Venafro se la vedrà contro il comprensorio verano. Il Termoli ospiterà Leacli Campo di Pietra. Gare di ritorno invece il 20 novembre.